Buonasera signore e signori sono Asci88, benvenuti con la parte numero 4 della nostra guida a Pokémon rosso Sono appena stato curato, sono appena andato a curare la mia squadra, non mi riesce a parlare, sono svegliato da poco E adesso continuiamo ad affrontare questi allenatori nel percorso adiacente alla palestra di Brock Come vi ricordate, spero, nell'ultima parte abbiamo affrontato Brock, abbiamo vinto la medaglia a sasso Mamma mia, sono super stanco, mi sono andato a letto ieri sera verso le 4 Mi sono svegliato stamani 20 minuti fa, quindi ho fatto quell'azione e ho detto adesso mi devo mettere di impegno a registrare un video senza sbadigliare Sarà una cosa difficile, ho un sonno della madonna, però dai ci proviamo Quest'oggi termineremo, penso di sconfiggere questi restanti allenatori, pieni di Pokémon abbastanza inutili Tra cui Rat, Takakuna, Weedle, Caterpie, Metapod, non so altro E per dirvi, niente, per aggiornarvi un po' sul mondo, sulla vita Visto che molti hanno già unboxato, fatto video, gente che è diventata espertissima di Xbox One e PS4 Io almeno per ora non penso di acquistarla, se me la regalate volendo, vi lascio l'indirizzo di casa Se vi avanza, me ne potete anche regalare una Ma non penso anche perché adesso veramente stanno... A parte tutto, ma costando veramente tanto, si parla sui 400€ per la PS4 e sui 4,99€ 500€, lo sbadiglio, lo ho fatto sentire, della Xbox One Quindi veramente un sacco di soldi, secondo me sono un po' sprecati Nel senso, per una console possono essere utilizzati per altre cose, magari un po' più divertenti Magari uno si fa una bella... faccio un esempio GoPro, se uno sta in un posto dove nevica, comunque sia fascioso Si attacca la GoPro, si butta giù dai cosi, dalla valle e magari fa un video in quel modo Mi sembrano un po' tanti quei soldi lì per una console Però, cioè, fatelo perché sono veramente belle Ho visto, io specialmente l'Xbox One perché PS4 è uscita dopo E quindi ho visto prima quella, ma poi perché io ho avuto la Xbox 360 Quindi dico, guardiamo quella, insomma, magari mi interessa di più Ho visto che ci sono veramente dei bei giochi Specialmente almeno su Xbox One Ora, non che io dico che sia meglio una o l'altra Però ecco, l'Xbox One ho guardato più quella, vi posso dire Questo Rattata con un attacco rabbio shatteritato Che comunque sia Ha dei giochi Un po' secondo me migliori Ecco, delle esclusive Soprattutto Killer Instinct Che è un gioco molto vecchio Che andava nel Super Nintendo E' stato il primo gioco che mi hanno comprato tanto tempo fa E' una specie tipo di Street Fighter con Mortal Kombat molto retro E adesso l'hanno rifatto in esclusiva per Xbox One E la cosa bella è che il gioco è totalmente gratuito E intanto Avast, grazie per... Penso che sarà in sovrappressione Non mi paga Avast per fargli pubblicità Ho ritoccato di nuovo il tasto sbagliato E come si dice E' un gioco totalmente free Cioè lo dovete soltanto scaricare E avete un personaggio gratis mi sembra O due Per giocare nella modalità story a ladder Oppure anche online E poi se volete altri personaggi O comprate il singolo Che costa tipo un dollaro e qualcosa Se non mi sbaglio Oppure se volete Tipo tutto il pacchetto dei personaggi Ne costa un tot O se volete il gioco completo Quindi Tutti i personaggi Le mappe Cose varie E personaggi che usciranno tra un po' Pagate mi sembra 39 dollari E avete il gioco completo Però ecco Io ho guardato questo Perché mi piaceva di più Mi interessa Vai Sinceramente E' un sbadiglio Contiamo i sbadigli di Ash88 nel video E secondo me Ecco Almeno per il mio punto di vista E' molto più carino Poi dopo ho visto anche i vari unboxing Ho visto che l'Xbox One ci ha messo Cioè ci ha messo Ci mette un pochino troppo per accedersi L'aggiornamento Che è E' ovviamente Una cosa che può capitare Sono delle console nuove E' come per tutte le cose nuove Un attimo Devono buttare fuori nel mercato Vedere cosa funziona Cosa non funziona E dopodiché Rielaborarle Quindi Se avete intenzione di comprarle Aspettate almeno Almeno a Natale Almeno Quelle che sono uscite adesso nel mercato Finiranno Cioè la prima mandata E magari prendete la seconda Che secondo me è sempre meglio Rispetto alla prima Perché magari la prima C'ha il difetto La prima c'ha quello Magari si accorgono Di un qualcosa Secondo me è meglio Poi ecco Fate come volete Dei due Se dovessi optare Opterei per L'Xbox One Da una parte Perché l'Xbox One Mi piace Sempre usare Però per il prezzo PS4 E' un po' più vantaggiosa Però ecco L'Xbox One Ha il Kinect Penso anche la PS4 Mi sembra Però lo devi prendere a parte Però ti danno Magari sarà una cavolata Ho visto L'auricolare Che ti danno Con la Xbox One È sicuramente meglio Di quello della PS4 Che sembra Quello del telefono Del Nokia 3310 Veramente orribile Una cosa Orribile Però Dice che la PS4 È stata migliorata Sui spostamenti Io non lo so Non l'ho mai Non l'ho mai Vista veramente Ho mai provato Tutte e due Quindi Non posso commentare Oltre Comunque sia Mi ha detto Magiston 23 Che C'è un gioco Ancora non mi ricordo Il nome Infatti ora Stava dormendo Se no Me lo facevo Dire appunto Quale era Una specie Tipo di MMO Ecco Ti pareva strano Oddio quanto Non ti sopporto Scusate che usa La velocità Perché non ho voglia Di Ok No Non si riprende Eeeh Vabbè Dai Allora Su Non è possibile Non è Dai Su Ce la facciamo Io non li sopporto I cicli Eeeh 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 E' una specie Di MMO RPG Rp RPG Si Mi so Pensato Di No Quello è Lanciarazzi Però ecco E' un E' un gioco Appunto Online In cui tu vai In dei server Combatti contro Dei moti Il tuo personaggio Bla 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 E mi ha detto Perché non Con un altro Nostro amico Non ci facciamo Dei video Magari ti crei Una specie Tipo di account Di tuo personaggio E con team speak Magari potremmo Vedere di fare qualcosa Dico Boh ci penserò Adesso devo sentire Devo informarmi Su questo gioco Allora Qui in questo Pokemon market Mi ricordo Che c'era qualcuno Che O se Pokeball No Era questo Team rocket No Era questo Wow Eccolo Allora Praticamente Se baghiamo 500 pokemonete Eeeh Quest'uomo Ci regalerà Un magikarp Io mi ricordo Che era anche Nel cartone C'era Succedeva la stessa cosa James La Lo Lo comprava Praticamente Prendeva questo magikarp Poi Si imbarcavano Nella motonaveanna E James Gli dava un calcio A questo magikarp Lo buttava fuori E diventava Geridos Quindi James Ha avuto anche Un magikarp Un geridos Tra l'altro Non male Allora Entriamo nel Monte Luna Mi sembra Che era Monte Luna O Monte Zuma Quella era Forse messicano E' un dio Azteco Boh Mi ricordo Comunque sia Entriamo nel Monte Luna E andiamo ad Affrontare La barbosità Dei pokemon Selvatici Tipo Zubat Tipo Zubat E Molti Zubat E Geodud Ma soprattutto Zubat In qualche Anfrat Potremmo trovare Paras Se siamo un po' Più fortunati E se Il dio dei pokemon E' gentile E favorevole Anche il nostro Amico Clefairy Clefairy Che io ve lo consiglio Assolutamente Come pokemon Qui è più facile Trovarlo Che nelle Precedenti versioni Perché appunto Se lo fate evolvere In Clefairy È veramente Veramente Forte Come pokemon Quindi Se nel caso Mi potesse interessare Un pokemon Normale Ecco Pensate su di lui Allora Dato che questi pokemon Non mi romperanno Le scatole A parte i Geodude Che li mando a capo Con un attacco Gli altri ci vorrà Veramente tanto Io Quasi Quasi Scritto L'imparapistola Acqua Quasi Quasi Utilizzerò La velocità doppia Almeno contro i pokemon Non contro gli allenatori E non Facendo così Spostandomi Per la grotta Però Almeno per le altre situazioni Altrimenti che ci si sta Veramente Veramente Tanto Ok Andiamo ad affrontare Questo Bullo Allora Vediamo un po' Che pokemon Ha Ha un pigiamosche No Non è un bullo È un weedle A livello 11 Perfetto Quasi Quasi Lascerei Nidoran Vediamo un po' Quanto toglie Con incornata Non c'ho voglia Di utilizzare un antidoto Con Su Nidoran O su Cioè Su picchiato O su pigi Perché Verrebbe avvelerato Terzo sbadiglio Oddio Mamma mia Esce 88 Versione Sonno O esce 88 Versione No Passione Ninna O Versione Sonno Stai per usare Kakuna Matata Timone Pumba Usiamo PJ Che Nidoran Nello 14 Squid Toll 15 PJ Al 13 Abbiamo fatto Tutta la scala Perfetto Anche Kakuna Verrà Fatto fuori Abbastanza Velocemente Un brutto colpo E E E quindi Niente Ora Vi scriverò Magari Su facebook Il nome Del gioco Se mi ricordo Il nome Cioè Mi ricordo Se mi faccio Dire il nome Almeno Mi potete dire Se ci avete giocato Se come E poi Quando fosse Ci farò Anche Un video Vediamo Un po' Ok Perfetto Allora Battiamo Anche Kakuna 14 Per PJ Ok Perfetto Spostiamoci A destra Affrontiamo Quella Allenatrice Mi sembra Che sia Un'allenatrice E poi Penso Che il video Si possa Anche Concludere Qua Così Posso Tornare A letto Scherzo Attento Giù Metto Una Sanguisuga Tipo Ehi Attento Le macchine Vanno per la strada Oh Clefieri Attenzione Ma è anche Molto carino Come pokemon Molto Paffuto Poi dopo Su x e y Abbiamo fatto Il pokemon Tipo fata Amazon Tra l'altro Mi ha mandato Un'email C'era L'offerta 149 euro È possibile Oddio S'ha addormentato Ok Mi sembra 149 euro Su Il nintendo 3ds Ed Ciao Guardiamoci E poi Pokemon x O y Ha scelta Mi sembra Era 149 euro Boh Vai Se qualcuno L'ha preso Ditemi Come si è Trovato L'xbox One PS4 E avete Magari Comprato Pokemon x E y Con L'offerta Che ha fatto Amazon O comunque Sia su Amazon O magari L'avete Trovato A qualche Cosa Buono Perché Ci stavo Quasi Quasi Pensando Dico Mi Faccio 3ds Per Registrare X E y Comunque Spero Che questa Parte Vi sia Piaciuta Come al Solito Vi dico Votate Commentate Ed Iscrivetevi Un ciao Da S88 Ciao Ragazzi